Il Salone Polifunzionale Questo è il Salone Polifunzionale. Qui gli ospiti svolgono svariate attività, dal mangiare a quelle ludiche ricreative. Non c'è nemmeno! Amo mio, mio amico mio. Decidi di farla finita. E il destino ti toglie le gambe. E da questa nuova prospettiva capisci il valore della vita. Per la meta c'è sempre un prezzo da pagare. Anche per colui che vince. Io se solo sapessi dove vengono la palla, sti coglioni, gli farei una bella sorpresa. Lo so io, lo so io. Come lo siete? Hai qualche difficoltà ad associare... Hai qualche difficoltà ad associare le cose alle loro funzioni? Che vuoi fare? Vuoi scattare? Ti chiedo spesso dalla mia famiglia. Tutti i giorni, tutti i giorni. Sono il bastardo! Oggi è venerdì. E come di consueto, proietteremo un film in sala grande. Ma questo è un film. Non so se mi piace. E il signore disse... A satana digiunerò per 40 giorni. Noi perché stiamo facendo tutto questo? Fammi capire. Golia è un manifesto. La sua fuga ci rappresenta tutti. È la nostra rivalsa. Alla direzione. Tutti i giorni. Tutti i giorni. Ha avevo una profonda di Gesù. Ho sangano, a sentiasa, ossia gli or lanzi. E anche Kafo. Tape, alla sua fiducia di tutto questo. I andare da stare... Grazie a tutti.